Qui Radio Maria, trasmettiamo i dieci comandamenti. A cura di Padre Livio. Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, i dieci comandamenti. E stiamo spiegando il quinto comandamento, non uccidere. Ieri abbiamo visto, cari amici, come l'omicidio volontario sia un peccato gravissimo. E fra quei peccati che gridano al cielo, come dice la Sacra Scrittura. E con anche l'espressione gridano vendetta al cielo, come dice appunto Genesi 4,10. Non intendo che Dio deva vendicarsi, ma sono quei peccati per i quali Dio stesso si fa presente per castigare. E appunto la parola castigare, non bisogna mai dimenticare che finché l'uomo ha vita, la parola castigare ha un significato di misericordia. Insomma come la madre o il padre castigano il bambino. Ecco, quando ho commesso qualcosa di male, perché se ne faccia una lezione per il futuro. Così la parola castigare ha un significato positivo, perché indica un intervento di Dio per far sì che quella persona che è sulla via della rovina, facendo il male, si renda consapevole del male, quindi si la veda. Infatti la parola castigare deriva da casto, rendere casti, cioè ha un significato di purificazione, di correzione. Ecco, allora Dio corregge. Finché siamo in questa vita, Dio corregge e ci dà la possibilità di correggerci. Poi naturalmente nel momento della morte ognuno di noi arriva alla opzione definitiva. Cioè la scelta definitiva di essere con Dio o di essere contro Dio. Allora, fra i peccati che gridano al cielo c'è proprio l'omicidio volontario. Abbiamo visto con amici che l'omicidio volontario nella chiesa primitiva, subito dopo l'apostasia, che era in pratica l'uccisione della propria anima mediante il rinnegamento della fede, era l'omicidio volontario che era seguito subito dopo l'apostasia come peccato più grave, seguito a sua volta dall'adulterio. Poi abbiamo visto, cari amici, come oltre all'omicidio volontario voluto e diretto, omicidio volontario vuol dire voluto, poi diretto, ci possono essere anche altre forme di violazione della vita, come tutte quelle azioni che provocano indirettamente la morte di una persona. noi abbiamo fatto per esempio un esempio concreto, situazione di lavoro, per esempio che dove non c'è la sicurezza sul lavoro, dove la salute è gravemente compromessa. Queste evidentemente sono forme di attentati alla vita che possono essere viste sotto la luce della provocazione indiretta dalla morte di una persona. Poi abbiamo anche, quindi c'è l'omicidio diretto volontario, quello indiretto, poi ci sono le forme evidentemente previste anche dalla legislazione civile riguardante l'omicidio involontario, dove però non è vento che non ci sia la nostra responsabilità. Pensiamo per esempio agli incidenti stradali, dove possono essere qualificati come omicidi involontari, ma dove forse la mancanza di prudenza da parte nostra comporta anche una responsabilità morale. Abbiamo detto ieri che avremmo trattato in un modo specifico due forme di attentato alla vita particolarmente odiose. L'una è l'aborto volontario, procurato, l'altra è l'eutanasia. Ambe due sono forme di omicidio molto grave. Questa mattina in questa catechesi noi parleremo dell'aborto e come sapete è stato qualificato dal Concilio Vaticano II un delitto abominevole, perché si toglie la vita un essere innocente. La gravità morale del peccato di aborto va sottolineata anche perché ci si trova di fronte a una legislazione di quasi tutti gli stati del mondo che permette l'aborto. Questo naturalmente ha creato una forma di relativismo morale o di coscienza larga. Ci sono delle persone che pensano se lo Stato lo permette, se lo Stato non lo punisce vuol dire che è lecito. Ebbene, cari amici, anche l'adulterio non è punito dallo Stato, però è ritenuto un peccato gravissimo da Dio. E al medesimo modo l'aborto, anche se non è punito dalla legge civile, è ritenuto un peccato gravissimo. Ed è un peccato che non è solito un peccato personale, è anche una grave piaga sociale. Si calcola che nel mondo ci siano ogni anno circa 50.000 aborti, quindi 50.000 forse anche di più. esseri umani che vengono privati del diritto di nascere, vengono uccisi in pratica, ma oggi la scienza ci rende sempre più consapevoli di quanto sia grave l'aborto, perché è proprio la scienza a dirci che nell'embrione appena fecondato c'è già tutto il programma del futuro essere umano. Ed è proprio la scienza e la tecnologia, sono proprio la scienza e la tecnologia a mostrarsi come il bambino si evolva nell'utero materno e quindi sia già un piccolo essere fin dai primi istanti del suo concepimento, anche se non ci sono ancora formati gli organi, però c'è il programma che si svolge, che si sviluppa, per cui aveva ragione l'apologista cattolico Tertuliano nel secondo secolo dopo Cristo, quindi tanto tempo fa, quando appunto combattendo la mentalità abortista della società romana, dell'impero romano, diceva è già un uomo colui che uomo sarà. Insomma è una vita umana, c'è poco da fare, cari amici. È proprio la scienza che ci rende consapevoli di quanto sia grave il peccato di aborto e quindi con quale attenzione, con quale ci dovrebbe essere una grande attenzione da parte anche della società civile, anche dello Stato per prevenirlo e per evitarlo in tutti i modi. Invece purtroppo dobbiamo dire che anche dalle organizzazioni internazionali, compresa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'aborto viene proposto molte volte, anzi spesso, spessissimo, viene proposto come un mezzo per la limitazione delle nascite. Tra l'altro bisogna anche dire, cari amici, che l'aborto non è soltanto la violazione di una vita umana, quindi la soppressione di una vita umana, ma l'aborto anche per la madre comporta un trauma, cioè voglio dire non è che sia un bene per la donna, certamente l'aborto, oltre che una colpa morale è anche un trauma psichico, un trauma fisico, e quindi la stessa madre, la stessa madre che decide di abortire, possiamo qualificarla o considerare una vittima di questa scelta, di questa sua scelta, lei stessa una vittima di questa sua scelta. Allora, io ho dedicato ben tre pagine a questo che il Concilio Vaticano II, tre pagine e mezzo addirittura, a questo che il Concilio Vaticano II ritiene un delitto abominevole, per cui a questo punto per dare una visione completa di tutta la problematica regolata dell'aborto, ci conviene leggere, se sarà necessario faremo qualche breve commento, per chi ha qui in mano il mio libro di 10 comandamenti, siamo a pagina 100, il paragrafo è molto eloquente e intitolato l'aborto è un delitto abominevole, scrivo una delle piaghe più dolorose dell'umanità è la pratica dell'aborto, oggi a causa dell'offuscamento dalle coscienze e di un uso irresponsabile della sessualità, l'aborto si è diffuso su larga scala, tanto da poter ipotizzare in alcune decine di milioni gli aborti che in tutto il mondo vengono praticati ogni anno, la situazione non è 50 mila forse 50 milioni scusate me l'ho sbagliato la situazione si è ulteriormente aggravata con l'aborto fai da te realizzato che mica mette con pillole vendute nelle farmacie compresa la cosiddetta pillola del giorno dopo che è falsamente presentata come un contraccettivo ma che in realtà è un abortivo quindi includiamo giustamente negli aborti anche quelli procurati dalle pillole del giorno dopo che impediscono l'annidamento dell'embrione e quindi provocano la sua morte chi potrà dunque calcolare la strage degli innocenti perpetrata ogni giorno sulla terra dall'incoscienza e dall'egoismo di una generazione smarrita ogni uomo che segue la ragione e la retta coscienza anche se non è cristiano non avrà difficoltà a riconoscere che la vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento dice il catechismo della chiesa cattolica numero 2270 dal primo istante della sua esistenza l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona fra i quali i diritti inviolabili di ogni essere innocente alla vita quindi un essere innocente che ha diritto alla vita sotto il profilo scientifico nel momento del concepimento quando cioè il seme maschile si unisce a quello femminile quindi nel momento del concepimento non quello dell'annidamento si ha già un'entità nuova chiamata embrione che contiene già in se stesso tutto il programma dell'essere umano futuro cioè l'embrione può stare anche un paio di giorni senza annidarsi perché ha già in se stesso la fonte per il suo sostentamento si annida anche un giorno il giorno dopo o dopo due giorni allora impedendo l'annidamento con l'appiro del giorno dopo si fa morire l'embrione ecco perché l'appiro del giorno dopo è ritenuto un abortivo giustamente Tertuliano un'apologetta dunque vi dicevo che l'embrione contiene già in se stesso tutto il programma dell'essere umano futuro per cui se una persona nasce con diciamo così capelli biondi quelli sono già programmati già nell'embrione per dire no come il colore degli occhi tutto è già programmato nell'embrione giustamente quindi Tertuliano un'apologetta del secondo secolo poteva affermare che è già uomo colui che uomo sarà da un punto di vista filosofico la ragione illuminata dalla fede non ha difficoltà a riconoscere che nell'istante stesso del concepimento Dio creatore infonde l'anima spirituale immortale la quale fa dall'embrione un essere che è già immagine di Dio quindi oltre all'argomentazione di carattere scientifico secondo cui nell'embrione come dice la scienza fin da primo istante del concepimento si è programmato tutto l'essere umano ci viene in soccorso anche la filosofia e la fede che affermano che l'embrione già nell'embrione è infusa l'anima umana infatti quando Maria è concepito è andata da Elisabetta il verbo si è fatto carne quindi in quel momento lì c'era già il corpo e l'anima e la divinità di Cristo nel gremo di Maria e quando lì andò da Elisabetta subito dopo partì Giovanni sobalzò di Gio nel gremo di Elisabetta nel vedere che veniva la madre del Signore ecco era già presente il Signore nel gremo di Maria questo è quello che ci dice la fede ma anche la filosofia ci dice che l'anima è infusa nel primo istante del concepimento perché non si tratta di una poltiglia come dicevano alcuni al tempo dell'effetto sul divorzio è un essere programmato e quindi c'è già evidentemente quel principio spirituale per cui l'essere che si evolverà è un essere umano la scrittura mette volentieri in evidenza l'opera della onnipotenza divina che plasma l'uomo fin dall'inizio prima di formarti nel gremo materno ti conoscevo prima che tu uscissi dalla luce ti avevo consacrato Geremia 1,5 e Salmo 139 dice non tirano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto non tirano nascoste le mie ossa dice il credente a Dio quando venivo formato nel segreto in tessuto nelle profondità della terra qui la terra in grebo materno ecco scusate più la scienza genetica progredisce e più risulta che l'embrione umano è uno dei più grandi prodigi della creazione se il suo sviluppo non viene interrotto esso senza nessun intervento dall'esterno diviene con la meraviglia che un bambino appena nato la madre lo sente crescere come un fiore dalla terra e lo riceve come un dono di cui non può esistere uno più grande come spiegare dunque la disinvoltura con cui oggi gli embrioni vengono stroncati nel loro sviluppo oppure eliminati o ibernati o clonati o usati come cavie la battaglia in difesa dell'embrione è una delle più nobili e delle più necessarie va combattuta per difendere l'onore dell'uomo ma anche quello della vera scienza ed una civiltà che sia degna di questo nome la chiesa nei suoi 2000 anni di storia è stata protagonista assoluta nella lotta per difendere la vita umana dall'istante del concepimento dice il catechismo della chiesa cattolica al numero 2271 fin dal primo secolo la chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato questo insegnamento non è mutato rimane invariabile l'aborto diretto cioè voluto come un fine o come un mezzo è gravemente contrario la legge morale dice il catechismo della chiesa cattolica è uno dei più antichi documenti del cristianesimo del secondo secolo dopo Cristo la didache dice non uccidere il bambino con l'aborto e non sopprimerlo dopo la nascita come era un uso fare spesse volte i romani gli fa ecco il concilio vaticano secondo Dio padrone della vita ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la vita missione che deve essere adempiuta in modo umano perciò la vita una volta concepita deve essere protetta con la massima cura e l'aborto e il concilio come l'infanticidio sono abominevoli delitti la Gaudium et Spes questa al capitolo 51 adesso passiamo anche alle penne che la Chiesa infligge i suoi fedeli che sono provocano l'aborto cioè sono pene diciamo così educative vogliono rendere consapevoli i fedeli della gravità del fatto in modo tale che non procedono più con superficialità di coscienza per tenere sveglia le coscienze circa la gravità dell'aborto la Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana nei confronti di tutti coloro che vi coprono formalmente quindi l'aborto comporta la scomunica in chi decide l'aborto ma anche in chi copra l'aborto di fatti vi c'è il diritto canonico i numeri 1398 1314 1323 1324 io riassumo qui chi procura l'aborto ottenendo l'effetto cioè di abortire incorre nella scomunica all'ate sentenze cioè automatica per il fatto stesso di aver commesso il delitto questa severità non significa che si che chi si pente non possa ottenere dalla divina misericordia il perdono nel sacramento della confessione non c'è nessun peccato per quanto grave che non venga rimesso a chi chiede la soluzione con cuore contrito e lo stesso confessore che ne abbia la facoltà del vescovo a soluzione dei penitenti dalla scomunica oltre che dal peccato la chiesa in questo modo dice il catechismo della chiesa cattolica numero 2272 mette in evidenza la gravità del crimine commesso il danno irreparabile causato all'innocente ucciso ai suoi genitori e a tutta la società quindi anche non soltanto evidentemente chi ha deciso l'aborto che possono essere il padre e la madre ma anche tutti quelli che hanno cooperato dal medico eccetera incorrono nella scomunica automatica dalla quale vengono assolti quando si confessano con cuore pentito da un sacerdote che abbia la facoltà di assolvere anche dalla scomunica in genere c'erano quasi tutti i sacerdoti di questa facoltà è talmente evidente alla retta ragione la malizia dell'aborto il quale è priva del diritto alla vita a un essere umano che scienziati e legislatori per mascherare la perversità adducono i sostenibili pretesti per giustificarlo nella legislazione di vari stati si esibisce un cosmetto diritto all'autoveterminazione della donna come se esistesse un diritto dalla madre a uccidere il figlio cos'è il diritto all'autoveterminazione della donna? in pratica significa riconoscere il diritto dalla madre a uccidere il figlio che evidentemente è assurdo uomini di scienza invece negano che l'embrione sia un essere umano fin dal momento del concepimento avvalando così varie pratiche per poterlo eliminare prima della nascita con coscienza tranquilla capito? dicono no ma fino al quattordicesimo giorno non è un essere umano e quindi in questo modo possono fare esperimenti sugli embrioni fino al quattordicesimo giorno si tratta di menzogne che cadono da sole di fronte all'evidenza di un embrione appena concepito il quale se non viene ingiustamente eliminato diventa quel mirabile prodigio della natura che è un bambino appena nato quindi cari amici sotto il profilo morale l'aborto è l'uccisione di un innocente da un punto di vista giuridico esso la privazione del diritto alla vita che fa parte di quel patrimonio dei diritti inalienabili della persona i quali non dipendono né dai singoli individui né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato infatti dice un documento della congregazione per l'autorità della fede Don Uvite dice nel momento in cui una legge positiva cioè una legge dello Stato priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve accordare lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge cioè in pratica lo Stato priva del diritto alla vita l'embrione cioè priva di quel diritto alla vita che viene riconosciuto agli altri cittadini quindi lo Stato nega l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge dice sempre in un decreto il documento Don Uvite della congregazione per l'autorità della fede dice quando lo Stato non pone la sua forza a servizio per i diritti vicino a un cittadino e in particolare di chi è più debole vengono minati i fondamenti stessi dello Stato per il diritto come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno accordate a nascituro a partire dal momento del suo concepimento la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti quindi lo Stato deve riconoscere il diritto dell'embrione a vivere e deve prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti quindi io mi ricordo quando ci fu il referendum sull'aborto io ho partecipato attivamente a quel referendum come militante in protezione della vita naturalmente mi ricordo che nelle discussioni anche dei cattolici dicevano ma lei cosa vuole che lo Stato mandi la madre in galera io dico non c'è mica bisogno di mandare la madre in galera si possono trovare tanti modi per difendere il nascituro e anche per dare appropriate sanzioni penali si possono dare appropriate sanzioni penali diciamo così sotto un profilo educativo non è mica necessario mandare in galera nessuno d'altra parte scusate in Svezia ci sono appropriate sanzioni penali con chi va con le prostitute che pure è un reato molto minore e nessuno batte ciglio ecco allora io dico che c'è qui un problema di civiltà fondamentale cioè c'è un diritto alla vita ad un essere innocente uno Stato di diritto deve proteggere questo diritto c'è poco da fare questo è un passo fondamentale nel capito della civiltà guardate che non ci sarà civiltà dell'amore se non si fa questo passo non illudiamoci grazie allo sviluppo continuo della scienza della tecnologia nel campo della genetica oggi si moltiplichano gli interventi con diverse finalità su un embrione umano che è diventato una cavia ormai il criterio fondamentale per valutare le moralità è quello di considerare l'embrione fin dal concepimento come una persona per cui va rispettato protetto difeso nella sua integrità curato e guarito per quanto possibile come ogni altro essere umano quindi gli embroni che vengono eliminati che vengono su cui vengono fatti esperimenti che vengono usati come cavie per gli organi che vengono ibernati eccetera sono tutte violazioni di una vita umana innocente sono una forma odiosa di barbarie ecco e chi fa questo non ha una coscienza non ha la coscienza addirittura non dico che ha la coscienza retta non ha la coscienza punto e basta in questa prospettiva la diagnosi prenatale moralmente lecita si rispetta la vita l'integrità dell'embrione e del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia o la sua guarigione individuale ma essa dice sempre il documento dono un vite della congregazione produttiva della fede rispetto riguardo alla diagnosi prenatale essa è gravamente in contatto con la legge morale quando contempla l'eventualità indipendenza dei risultati di bloccare un aborto quindi quando la diagnosi prenatale è fatta a termini terapeutici per guarire l'embrione allora è benemerita moralmente lecita se invece è ben fatta con l'intenzione di eliminare l'embrione nel caso che avesse dei difetti allora è un peccato grave è aborto oggi vi è anche la tendenza a produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come materiale biologico disponibile no? per cellule staminali no? si ipotizza la colonazione di embrioni per utilizzarli in vista del ricambio di organi tutte le operazioni di questo tipo si configurano come gravemente immorali perché usano una persona come se fosse una cosa la riduzione dell'embrione a un oggetto che si può utilizzare e persino commercializzare è uno dei segni più inquietanti dell'offuscamento di tante coscienze nel mondo contemporaneo allo stesso modo vanno stigmatizzati alcuni tentativi di intervento sul patrimonio cromosomico genetico che non sono terapeutici ma mirano la produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità prestabilite cioè si interviene sull'embrione per selezionarne alcune qualità e in questo modo preveterminare il sesso prima e preveterminare le qualità prima queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell'essere umano dice il documento della comunicazione per la dottrina della fede sono contrarie alla sua integrità e alla sua identità unica e irrepetibile siamo ogni giorno messi di fronte a situazioni nuove la ricerca scientifica che non dirado alle sue spalle ingenti interessi economici prosegue le sue sperimentazioni spesso incurante dei valori morali in gioco il delirio di onnipotenza e il miraggio di enormi guadagni abbattono ogni agine morale per cui divene lecito tutto ciò che è possibile gli stessi stati si mostrano incapaci di affrontare le nuove situazioni e di darsi una legislazione adeguata e tempestiva che tuttiri la dignità del concepito la battaglia in favore della vita umana fin dal momento del concepimento questo costituisce una delle frontiere decisive su cui si determina il futuro dell'umanità ecco cari amici io per esempio ho fatto un'affermazione molto impegnativa molto seria ma la ribadisco adesso in chiusura cioè la Madonna ci ha detto Regina della Pace ci ha detto che lei è venuta qui con noi e sta qui con noi per così tanto tempo per costruire il nuovo mondo della pace un tempo di primavera bene cari amici questo nuovo mondo della pace passerà non soltanto attraverso la riconciliazione fra i popoli attraverso l'eliminazione delle armi nucleari batteriologiche chimiche eccetera ma il nuovo mondo della pace passerà anche attraverso il rispetto dell'embrione fin dal momento del concepimento di primavera